ciao ragazzi allora come potete vedere oggi sono a bordo di scania citywide e sono gli ultimi arrivati in flotta guardate i cabellini non so dirvi granché sulla meccanica perché non ho il tempo di aprire il libretto e leggere come vi ho già detto da due mesi o poco più mi hanno trasferito sull'urbano per cui li conosco ancora poco però come sempre gli scania mi piacciono assai e vanno anche molto bene direi vi porto a fare un giro un po veloce veloce sulla linea 1 che collega l'ospedale al gervasuta e attraversa praticamente taglia in due metà la città grossomodo fatto il giro ovviamente vi censuro gli ingressi di due centri vi mostro la guida praticamente vediamo adesso dove posso piazzare la gopro niente intanto un po quando saprò qualcosa di più quando conoscerò un po meglio i mezzi magari ve li racconterò in modo più approfondito vi mostro proprio velocissima la plancia a comandi il posto guida sedile ovviamente in pelle per resistere all'usura braccioli destro e sinistro porta che ci chiude dentro pure col cicalino per una scatola se si dimentica aperta schermo per le telecamere posteriori sulle porte posti a sedere e posti in piedi da all'esterno guardate che bella giornata sono i soliti bianchi che vedete girare in città fari xeno pedana disabili display a led logo scania e marchio in bella vista frontale bello aggressivo fari xeno intanto vi auguro un buon zero ciao a proposto di cicalino e a 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.